La chiusura prevista nel DPCM del 24 ottobre aveva di fatto svuotato le sale dei teatri, ma l'aumento dei contagi rende la riapertura in tempi brevi una remota speranza. Così Metastasio e Camerata Strumentale Città di Prato hanno rivoluzionato il loro cartellone, trovando nuovi strumenti per rimanere comunque vicino al proprio pubblico. Il Metastasio ha lavorato su due fronti, quello sociale con un progetto che ha scritturato 15 artisti e quello culturale. Credo che in questo momento il teatro Metastasio come teatro pubblico stia svolgendo insieme un ruolo doveroso di sostegno alla maestranza e agli scritturati e in più stiamo producendo comunque dei lavori che speriamo di alta qualità artistica che permetteranno al nostro pubblico di rimanere in contatto con noi. In programma un radiodramma trasmesso sulle frequenze di Rete Toscana Classica, uno sceneggiato televisivo in bianco e nero e il progetto Sblocco, pillole di intervista ai pratesi sulla pandemia. Anche la Camerata Strumentale Città di Prato si è organizzata proprio alla vigilia del debutto, previsto per domani della canzone del ringraziamento di Beethoven, dedicata agli abbonati. Ci abbiamo pensato molto ma proprio per rispetto nei confronti del pubblico e di tutti gli artisti e data l'indeterminatezza del momento abbiamo pensato che forse è meglio sospendere la nostra stagione sinfonica 2020-2021 per poterla riprogrammare nella sua interezza non appena ci sarà uno spazio di tempo sufficiente per farlo. A partire da domani sulle frequenze di Rete Toscana Classica verranno trasmesse alcuni dei concerti della Camerata. Nel frattempo gli abbonamenti restano validi, nella speranza di poter riprendere i concerti in sala.